Come promesso, ciao a tutti, dal prossimo video, da TFG on demand ragazzi, oggi come ammesso è l'ultimo video di Clash Royale, dove abbiamo fatto il doppio mortaio, oggi vorremmo fare più Arco X possibile, almeno il doppio Arco X, è difficile perché l'Arco X costa 6, il mortaio costava 4, però ci proviamo ragazzi, battaglia e come sempre primi gli estrattori, esatto, io vorrei fare così, guarda che bene, ti va sempre di culo, l'estrattore, lo specchio già all'inizio, quindi puoi mettere subito pan così, belli belli, due estrattori, fai la furbata, metti un estrattore a sinistra e una a destra, perché se lui spara la palla di fuoco, colpisce solo uno, capisci? Senti, se mi capisci, guarda, guarda, ah, coglione il mini pecca, che persona idiota, io direi che puoi iniziare anche subito, e appena hai lo specchio ovviamente, guarda, anche questo mette, anche nell'altro video mettevano la torre con barola dietro la torre, è una cosa decisamente bislacca, hai un altro estrattore, l'avversario ha lasciato lo scontro, metti lo specchio, metti lo specchio, non lo specchio, non lo specchio, ecco sei riunito dai, vai l'estrattore, vai, vai di nuovo, quattro estrattori, subito così in bomba, perché altrimenti gli HX, eh, non riesco a chiamarli, no, riesci a chiamarne uno, ma poi passa troppo tempo per chiamare il secondo, quindi, ecco, vai, ecco, oh cazzo, vai a difendere adesso, difendi pure come vuoi, io direi di zappare, e zappalo però, zappa tutto e adesso metti le, esatto, esatto, è morta la strega, perfetto, adesso muore anche il gigante, dai 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 ok, ce ne hai fatta, vai, ora 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 ora, attacca attacca, ok perfetto, uno lì, vai che ce ne metti un altro, guarda, due, due HX, perfetto, zan 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 che figo, che figo ragazzi, oddio, e ti difende pure la torre, grande, guarda che figo, metti un'altra è un'altra torre, giacca a 6, ok perfetto, è notta giù, ah, 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 gli metto anche questi, così li faccio capire, che figo ragazzi, il doppio arco X, bellissimo, come spalpa, pam 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 pam, è bello è bello, sulla torre, bastardissimo, vai attacca di là adesso, mi sa che si è arreso, si è arrabbiato, no adesso sta Ma no, si è arrabbiato e dice ecco, non mi sono accogliato, mi ha ucciso, mi ha ucciso, ecco, 3 Arch-X, Arte e Strattori, voglio che li metti dalla sua parte adesso, quattro, quelli che riesce, se non so quattro Strattori, metto quattro Arch-X di là, esatto, metti l'Arte-X dall'altra parte opposta, non gioca, tu metti l'Arte-X, ecco, metti un altro l'Arte-X adesso, va che arriva, dai, metti uno all'altra, uno all'estima sinistra, guarda che belli, guarda, guarda, pam 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 pam, che bello, ma anche bello perché l'altro sta giocando proprio bene, si si, sta difendendo bene, è una partita molto combattuta se dovessi, e va ragazzi, va a fare tre corone con Rage Quit dell'avversario quando ha visto il doppio Arch-X, quindi adesso vediamo se riesce a farlo di nuovo sperando che l'avversario non Rage Quiti, c'è, al minimo un po' di sfida c'è, perché se Rage Quita di nuovo, che sfida c'è, non c'è gusto, perché poi alla fine, è vero, la torre, è andata giù la tua, 170 di vita, bastava che gli tirasse una palla infuocata, eh, forse non ce l'aveva, eh, che adesso non hai la, quindi aspetta di avere, come sempre, Estrattore, Speppio, così a caso proprio butti le truppe, questo è un livello 5, attenzione, poi puoi mettere l'Estrattore, ecco, quella è una rottura in pull però, soprattutto contro le difese, aspetta, cosa vuoi fare? Aspetta, vuoi difenderti? metti, metti, esatto, la dietro, eh, però ti butta, cioè, non ti butta giù la torre, però 700 me li fa di dare per l'esplosione, probabilmente, eh, non so quanto danno, 700, 800 sicuri, eh, 7, 8 me li fa, dai, vai, uccide, uccide la Valkyria, BOOM, metti gli estrattori, dai, inizia, estrattori, ok, perfetto, estrattore lì, e mi raccomando, una sinistra, una destra come prima, bravissima, orina, e guarda che tecnica, guarda che tecnica, adesso, secondo te, è che questo qui è uno che sicuramente gioca di più, si, si, ci gioca, ci gioca, ha capito che tu stai attendendo, esatto, stai preparando cose, cose non si sa, ma sto preparando, bravo, bravo, difendi bene, che mi difende bene, perfetto, ho difeso benissimo, ora estrattore di nuovo, oh, iniziamo già con, no, no, vai bene, estrattore, vai, oh, cazzo, vabbè, anche se perdi una torre, vabbè, vaffanculo, d'altro estrattore, via, ecco, appena i quattro estrattori puoi cominciare, vai, ok, adesso, 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 si gioca, si comincia, allora, aspetta che ne puoi liberare per aver subito lo specchio, eh, boh, è vero, se lo specchio non è che posso fare a meno, eh, ok, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, c'è lo specchio adesso, ricordati, metti un arpx al centro, proprio, esatto, lì colpisce la torre, lo metterei più un po', boh, mettilo lì, devi metterne due, devi metterne due, ricordati, si, lo so, eh, vediamo cosa va a colpire quell'arco x, ah, cazzo, difende la pizze, no, cosa, eh, cosa c'è, cosa, ah, l'attore ti va giù, no, più che altro mi va giù, no, 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 riesci a buttare giù la torre, no, no, il, ah, l'arco x, cazzo, porca puttana, boh, vabbè, 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 cosa fai adesso, metti un arpx dalla parte opposta, sì, ma lui adesso non è che ha di nuovo il, non mi interessa, metti anche l'arpx di là, fidati, distrailo, completamente, vai, così, esatto, esatto, zappa, 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 ah, zappa, ok, perfetto, dai, c'è la puoi fare, c'è la puoi fare, 10 secondi, 10 secondi, attenzione, muoviti, muoviti, 5, 4, dai, sputtate, dai, 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 no, 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 ci credo, ce la potevi fare, porca puttana, riprovi, 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 poi hai avuto sfiga che c'era quel cazzo di scaretro gigante che quando cade, ovviamente, ti distrugge gli archi x, ce la puoi fare, ce la puoi fare, fa voglia che sono roba indecente, no, diciamo che se ne metti, secondo me, uno da un lato, uno dall'altro, veramente una rotola di palle, perché lui sicuramente metterà una cosa di fendere un lato, esatto, ma non si aspetta che tu è lo specchio, quindi adesso mettiamo uno da una parte, una dall'altra, esatto, secondo me sì, intanto difendi da destra, visto che, visto che li sto attaccando, sì, ma adesso metto gli sgheri quando, quando arrivano, quando, quando, quando il tempo lo deciderà, lo deciderà, deciderà, dai, te devi difendere adesso, attenzione, attenzione a quella, metterli dietro, perché, è zappa, e devo mettere il trucco dietro, eh, eh, che cazzo, eh, però non difendi, difendi, metti gli sgheri, guarda, 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 che si gira, bene, bene, perfetto, scheletrini, scheletri, scheletri ovunque, ok, va bene, e di mettere estrattori però, eh, mi raccomando, tanto adesso lui deve difendere, il draghetto lì va giù, e lui deve difendere, metti gli estrattori, vai, vai, ok, perfetto, due estrattori, questo si chiama re, attenzione, king, come come osa, rubarti anche il nome, come osa, il king di clash, king del clash, fa bel fibra, no? Sì, ma non esageriamo, no, scusa, il marrakesh era il king del clash, oddio, marrakesh, king del clash, marrakesh, scotte, dovete mettere due estrattori o iniziare subito con... Io metterei ancora estrattori, tanto tempo, tempo gavemo, vai, vai di estrattori, vai, ma si mettiamo gli estrattori, è già morto, guarda, c'è un estrattore intendo, vai un altro estrattore, vai subito, olè, perfetto, adesso puoi anche iniziare perché fra 25 secondi inizia l'alesir doppio, quindi spacchi devasto proprio, però vedi, non so cosa fare se adesso mi comincia a difendere, no, attaccami qua, metti l'arco x, vabbè, esatto, adesso vediamo lui come gioca, perché adesso con l'arco x cosa colpirai, scontate, la torre o le truppe? Ok, perfetto, allora, difendilo, difendi l'arco x, perché l'hai fatto? Devo difendere anche di qua, capito, devi mettere l'arco x subito la truppa, ma ti ricordo che devi difendere anche di qua, eh, vabbè, non c'è un 3 sgherri, bastano, ok, metti un altro estrattore, assolutamente, ok, perfetto, ora rimetti l'arco x, ma deve avere lo specchio però, difendi fino a quando hai lo specchio, tanto comunque devi difendere dal gigante, esatto, devi difenderti comunque, 3 sgherri altrimenti va giù, mi sa che va giù, 400, 245, 278, va giù, arco x, vai, hai lo specchio, Sì, ma guarda cosa succede adesso, totano, ma vai, stai zitto, ma tu non capisci un cazzo, stai zitto, no, perché non lo scendi, stai zitto, ma tu difendi troppo, devi attaccare, ma stai buono, adesso attacco, guarda che roba, Dio mio, attacca, cazzo, attacca, difendi quel co, oh, bravo, va bene, ci sta, ci sta che tu gli attacchi d'altra parte, metti anche, guarda, guarda quella parte, perfetto, no, zapp, zapp, perfetto, girati arco x, bravo, dov'è l'arco x? È lì, hai perso, sei proprio scarso, stai zitto, dammi qua che faccio io, dai, ti prendo a sberle, dai, faccio io, rifacciamo, no, faccio io, stai zitto, guarda, 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 è scarso, sei parlato con questo, difendi con questo, difendi con quel lato, sì, ma se non posso, Dio, devi attaccare, Dio, cane, a testa bassa, adesso io non dico niente, fai tu, dai, dai, continua a parlare, no, adesso fai tu, perché sei scarso, cazzo, cos'è, devi girare, ecco, bravo, perché mi stavi facendo arco sotto, sì, non sono accorto, attenzione, ragazzi, perché Riega sta esplodendo, non riesce a vincere, ha vinto solo la prima partita, con uno che non giocava, efficiente, vuoi che vinca? Sì, ok, per esempio, no, no, ma con gli archiex, se vengono con gli archiex, non che hai attacchi con quello che vuoi, con i zappi, no, no, tranquillo che attacca con queste, zappi, fai cose, ah, subito, inizi subito? Sì, inizi subito. Perché? E perché? E perché? E perché? Sì, che vincano, io voglio sempre che tu vinca, io sono un amico e voglio che tu vinca, io godi quando perdi. Eh, che godi quando perdo, cazzo. Ho ragione a godere quando perdi. Ecco, ecco, è facile così. Ti ho detto solo archiex e tutti gli sgherri. Era per difendere? Eh, ti ho detto, metti una... Chi mi ha colpito la roba centrale? Eh, perché? Perché tu hai messo, tu non hai fatto come ti ho detto, hai messo un estrattore. Da un lato e uno dall'altro. Sì, ma gli hai messo... L'esplosione della bomba, non li prendi due. Li prendi tutti e due. Dio, stupido, adesso non puoi fare questi coglioni. Rinegan, vi piace vedervi che scleriamo, vero? Perché voi godete quel fatto che noi ci insultiamo? Ma loro sanno che hai giusto che io ti insulti? Ma ora, in questo caso, è vero o no? Secondo voi nei commenti ho ragione, io ho Rinegan. Ma lui, secondo voi è più stupido o coglione? Ma secondo lei, Rinegan è più scarso o inabile? Vediamola, diciamo questo. E tu con te, vincimi nella tua arena solo con i... Ma va fa' il culo. Nella mia, se non ero in auto, io è più difficile. No, è vero. Come non è vero? Chi l'ha detto? Tu R-Kicks, ecco. Ce l'hai fatto. Bravo. È difficile? Eh? 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 Bravo Rinegan, bravo. Adesso voglio che metti altri R-Kicks. Adesso li metto. R-Kicks. Sì, ma sta giocando. Eh sì, ha messo un draghetto adesso, sta giocando. Mi sembra un po' troppo passivo. Ecco, 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 vai, 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 vai. Hai fatto la palla di fuoco e non hai così. Vai, ottimo. Eh, lo specchio. Mettilo, no, mettilo dall'altra parte, esatto. Fai un po' in... Sì, ma lì ho... Ah, c'è il draghetto. Aspetta. Poglione. Allora mettilo di là, vai. È buona. È tutto bene. Vediamo adesso. Ta-ta-tan-tan-tan-tan. Che cosa? Chi vince? Ah, bastardo. Si è messo a sparare lo spaccamuto. Eccolo là che spara la torre centrale. Bam 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 bam. Da, 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 da... Ta-ta-ta-ta-ta. Da, 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 da... Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei mi piace. Continuate su questo canale. Ciao a tutti. E al prossimo video. Grazie.